Musica Ciao, sono Michela Frippone, sono titolare dell'Aki Tattoo di Ponte Decimo in via Paolan Fossi 6870 Rosso. Anch'io sono uno sponsor della festa di fine estate in piazza Tazzoli col tropico del Glasgow. Musica Allora, noi siamo l'Aki Tattoo e siamo aperti dal 1999, quindi a dicembre facciamo 18 anni di apertura. Facciamo sia tatuaggi che piercing di ogni genere, dal realistico, altre di strano americano, maori, polinesiano, watercolour. Cerchiamo di essere sempre presenti e di inventarci nuove tecniche e di impararle. Essendo che siamo aperti dal 1999, penso che questo sia una bellissima garanzia. Siamo professionali e puliti e vi aspettiamo numerosi nel nostro studio. Musica Nel nostro studio, oltre che tatuaggi e piercing, si effettuano anche quadri, soprattutto ritratti, su prenotazione. E abbiamo anche una bellissima e vasta gioielleria a livello di anelli da offrirvi, tutto in acciaio chirurgico, 316 L impiantabile nelle ossa. Io faccio tatuaggi, sono una tatuatrice dello studio Laki Tattoo e ora vi presenterò Cinzia Bigoni, che è la piercer dello studio Laki Tattoo, che vi potrà dire qualcosa in più sui piercing. Allora, ciao a tutti, io sono Cinzia, sono la piercer del studio Laki Tattoo, lavoro con mia figlia. Mi sono appassionata tantissimo ai piercing dal 1997. Cerco sempre di portarmi avanti, di fare cose nuove, soprattutto nei surface, che mi piacciono tantissimo. E cerchiamo anche di mantenere sempre una buona etica professionale nel nostro studio, sia a livello di igiene sanitario, che di professionalità, a livello di comunque tecnica di tatuaggio, tecnica sul piercing. E cerchiamo sempre di inventarci un po' cose nuove, di andare più incontro ai clienti il più possibile. Ora, dopo un mese noi rivediamo i nostri clienti, sia dopo l'esecuzione del piercing che del tatuaggio, in modo tale da dare una garanzia e una sicurezza al nostro cliente. E qualsiasi cosa loro hanno bisogno, comunque noi siamo sempre presenti. E per noi è molto importante rivedere ogni persona che è stata da noi, per poter verificare che sia tutto comunque andato a buon fine. Per eventuali ritocchi, comunque, sul tatuaggio, noi lo comprendiamo già nel prezzo, in modo tale che durante la guarigione, il nostro cliente, se dovesse succedere che salta colore, eccetera, può tornare da noi, farcelo vedere e noi procediamo a rimettergli all'a posto. Il nostro indirizzo è via Polanfossi 6870 Rosso, Ponte Decimo, a due passi dalla stazione. Siamo aperti tutti i giorni, dal martedì al sabato, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 20. I nostri giorni di chiusura sono la domenica e lunedì, vi aspettiamo numerosi e siamo qui per voi.